Bergamo è casa mia sostanzialmente per cui anche se uno emigra poi le cose certe cose se le porta dietro sul festival posso solo dire che assieme ad Angelo ci sono stati tre quelli qui a Carlo Nolli, Sandro Zambetti e qualcun altro ci sono stati quelli che sono un po' inventato all'inizio Il film che vedete è un esercizio sulla leggerezza cioè nel film una mongolfiera mi piace pensare che fissi un po' quella mongolfiera le mongolfiere sono fatte di niente, d'aria e però non bisogna andare molto in alto ovviamente c'è anche pericoli che si perdono non spero che non sia caso dell'armo di sottotitolo una notte nella città sul 45 si può parallelo qualcuno guardando nel buio cerca di ricordare quanto è stato felice qualcun altro si chiede se lo sarà mai e dove starebbe nel caso la felicità grazie a tutti grazie a tutti